Eravamo stranieri, non dobbiamo avere paura. Papa Francesco affronta davanti al Congresso degli Stati Uniti le urgenze del mondo di oggi. Nel primo discorso di un pontefici al Congresso, Bergoglio cita l'inno americano e Martin Luther King e chiede l'abolizione globale della pena di morte. Un punto quest'ultimo sul quale l'applauso dei parlamentari statunitensi è stato più tiepido. Il Papa ha voluto anche affrontare il tema della vendita delle armi chiedendo la fine di un commercio intriso di sangue. Il suo intervento è stato interrotto da 30 applausi e si è concluso con un'innovazione bipartisan.